benvenuti ad una nuova puntata di un format che ho chiamato la super routine di in cui intervisto persone che stimo per quello che sono riuscite a realizzare nel loro ambito mantenendo uno stile di vita equilibrato lo stesso stile di vita che ha rappresentato e rappresenta tuttora il motore che li porta ogni giorno più vicini ai loro obiettivi oggi sono qui insieme a luca alixi consulente finanziario indipendente e fondatore di planix la prima piattaforma di finanza personale in italia ciao luca ciao nicola ciao a tutti bello essere qui con te molto contento di questa ghiacchierata perché come dicevamo in altre occasioni tra quello che facciamo io e te in realtà ci sono tantissimi punti in comune lato prevenzione lato previdenza la morale è che bisogna cominciare per tempo anzi prima si fa meglio è cominciare ad occuparsi della propria salute della propria chiamiamolo così pianificazione per essere tranquilli a lungo termine si sono vari punti di contatto anche se a prima vista non sembrerebbero soldi e salute fisica cosa hanno a insieme in realtà ci sono un'ottica siamo una pianificazione di lungo termine che può aiutare e quindi in realtà sono due come si può dire due aspetti che possono aiutarci a vivere non solo più a lungo magari può essere anche con un obiettivo ma vivere meglio vivere bene nel nel presente vivere in modo più pieno il presente insomma quindi per farlo servono due cose sicuramente sono condizioni necessarie la salute di sicuro e anche qualche soldino perché se no insomma diventa un circolo vizioso di malessere diciamo che per entrambe le cose c'è bisogno di un'attenta pianificazione sì 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 perché comunque tutte le tentazioni i desideri spingono dalla parte opposta in realtà questa è un po' la fregatura in realtà di cui poi magari andremo a parlare insomma la soddisfazione gratificazione di breve termine il nemico principale in entrambe le le questioni sì sì guarda eh a me piace sempre ricordare la frase del libro di james clear famosissima con i cabiz che è veramente semplice ma riassume un po il concetto della gratificazione per le termine e dice in poche parole scegli sempre un qualcosa che ti dà un beneficio a cinque anni di fronte a quello che ti dà un beneficio in cinque minuti o cinque secondi e qui siamo di fronte sempre ad un out out che ci può aiutare a fare delle decisioni migliori in ogni ambito sì sì ci sono vari vari hacking che ci possono aiutare a fare questo che ripeto va contro natura no lo sai meglio di me in realtà ragionare lungo te non è proprio all'interno della nostra della nostra natura magari in questo caso io consiglio lato investimenti insomma di pensare al proprio io di lungo termine proprio io futuro no perché poi il futuro arriva da dieci anni e figurati fra dieci anni c'è un sacco di tempo purtroppo non è così tanto tempo dieci anni arriviamo tutti è importante arrivarci rispetto in salute e magari anche in condizioni economiche finanziarie diciamo dignitole una cosa che mi piace sempre ricordare quando si parla ad esempio di longevità un concetto che sembra o matematico ingegneristico ma realtà è quello quando parliamo di due predittori importanti di longevità quindi capacità cardiorespiratoria misurata ad esempio con metri che tipo il bio 2 max è forza massa muscolare siccome siamo soggetti ad un fisiologico declino con l'età prima cominciamo a risparmiare più accumuliamo in relazione a questi due ambiti più poi ritroveremo del capitale in termine di salute di longevità quando effettivamente ci servirà si vedi è un altro siamo un altro punto di raccordo tra quello che facciamo ed è assolutamente così magari mettere da parte tra virgolette quando se ne ha di più come se ne ha di più non si è più forte non si è più in salute sia più tempo a disposizione così via per magari momenti meno meno favorevoli appunto perché per mettersi a fare qualcosa o si è più anziani acciacchi o più impegni personali perché si cresce siano i figli sia famiglia il lavoro va avanti e così via insomma quindi mettere da parte anche è bello non lo spero di tratta questo concetto qua ma lo stai dicendo adesso lo trovo estremamente interessante che si può si possa immagazzinare si possono immagazzinare risorse anche per la salute è assolutamente interessante fantastico allora luca ti faccio le solite domande che faccio a tutti i miei ospiti partiamo con la prima c'è un'abitudine che ritieni essere stata fondamentale per il tuo percorso di crescita personale e professionale la premessa in tutto questo è che sono le mie abitudini le mie routine di uno che non è assolutamente un super uomo ma che ogni giorno cerca di insegnarsi ogni giorno perché no il brutto è che sono stati momenti nel corso della mia storia professionale di vita alti e bassi no e questi alti e bassi o meglio anche i bassi sono potenti non sei mai non sei mai arrivato da questo punto di vista quindi mai adagiarsi magari su quello se hai creato una buona routine così via perché no un po di stress in più puoi in ogni secondo diciamo riportarti a cattive abitudini che non si è mai arrivati questo è un po un po la mia esperienza allora tra le abitudini quella che magari mi ha un attimino più aiutato per quello che che ha sentito il mio corpo ha sentito la mia psiche sarò scontato ma sicuramente è svegliarmi presto sicuramente svegliarmi personale sveglia presto attenzione qua causazione non è correlazione c'è un ecco fatto belle cose perché mi sono svegliato presto attenzione a non fare una connessione troppo diretta tra le due cose però effettivamente vedo che quando riesco a confermare questo tipo di routine svegliandomi prima dove prima intendo tra le cinque e mezza le sei tra le cinque e mezza le sei riesco poi a essere più produttivo il punto che non è difficile svegliarsi presto se si va a letto presto anche questa magari risaputa è difficile andare a letto presto magari perché si finisce di lavorare una certa ora poi c'è un po di vita sociale stare col partner e così via si fa fatica qualche volta ad andare a letto alle nove e mezza dieci che è l'ora giusta per potersi non puoi dormire cinque ore io sono un fan delle otto ore di sonno 6 6 7 meglio otto ore di sonno quindi comunque vogliarsi presto vuol dire per forza ricordo andare a letto presto quando riesco a rispettare quella routine mi sveglio meglio sono più produttivo arrivo le 10 che ho già un po di lavoro messo da parte tutto va di va in discesa insomma la giornata lavorativa insomma quindi questa è una una delle abitudini che preferisco tenere e quando ti svegli presto fai delle cose prima di cominciare a lavorare non lo so attività esci prendi integratori ti dedichi a te stesso o subito cominci a lavorare bevo un caffè di sicupi bevo un caffè forte è bello mi aspettavo una mezz'ora forse leggevo un po no che sai che sono un po appassionato di biohacking per cercare di capire dovrei aspettare forse qualcosa però va bene così perché mi serve un po una botta una botta di cofina a proposito di buone abitudini rivedibili non cerco di allenarmi di mattina cerco di allenarmi sì 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 tre volte alla settimana parliamo dopo la parte sportiva vado da allenarmi alla box allenarmi veramente insomma sia alle sette inizio e lascio ultimamente sto sto lasciando proprio anche anche il mac in ufficio non lo porto a casa questo secondo me un è una cosa interessante che non ho sentito in altre interviste però non ho computer fisso a casa chiaramente il cellulare però non riesco a lavorare dal cellulare non c'ho voglia i social ormai ultimamente sono abbastanza disintossicato devo dire la verità non provo più grande attrazione per i vari social però mi metterai a lavorare brutto è quello cioè ancora con la colazione con il caffè americano mi metterei iniziare a vederle email e poi e quando è capitato pessima amitudine perché qualche volta materialmente mi sono accorto che erano le nove e mezza dalle sei e mezza e nove e mezza via un'email all'altra la rottura di scatole magari che è successa in azienda slack e così via nove e mezza in che senso che è successo però lavoro brutto lavoro c'è lavoro inutile lavoro stressante non buono quindi lo lascio in un ufficio quando è possibile per lo se non ti entro lo sto sempre lasciando e poi vado in ufficio a 99 mesi in realtà sto cercando inoltre ecco di splitare proprio gli ambienti dove lavoro gli ambienti dove vivo normalmente non riesco più lavorare la casa sinceramente non voglio più farlo questo è molto importante secondo me perché appunto rappresentano comunque c'è gli strumenti da lavoro rappresentano uno stimolo visivo in maniera inconscia comunicano la necessità di qualsiasi minuto e buono questo nell'epoca del lavoro agile lavoro da casa digitale alla fine è così fondamentalmente si finisce per utilizzare ogni minuto buono anche in maniera non produttiva perché poi lavorare in questa maniera fermentato ogni volta devi ricominciare da capo invece il tuo lo trovo davvero un consiglio importante quindi chi può lasciate lasciate il computer in ufficio sì 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 poi se riuscissi magari col computer o meno in quelle ore mattutine di pseudo lavoro a concentrarmi su qualcosa sulla scrittura ok però preferisco in realtà iniziare con caccia di dedicare a me stesso fino alle otto le no quindi non faccio journaling non faccio grandi meditazioni particolari no no preferisco insomma tanto da piccolo imprenditore purtroppo è abbastanza sempre in testa non è che devo sforzarmi a farmelo venire in testa perché comunque è sempre in background quel pensiero sono io che devo ogni tanto cercare di allontanarlo il più possibile perché sono magari può essere stressante poi parliamo parliamo di stress leggo se possibile invece questo si leggo cartaceo io assolutamente no kindle non ho niente sono per i libri cartacei team e un paio di pagine sia prima di andare a dormire che di mattina cerco di leggerle sempre cosa stai leggendo adesso allora ho cercato ultimamente cerco anche di limitare i libri puramente a sfondo finanziario partendo le 20 centinaia da un certo punto di vista esce sempre qualcosa di interessante però ma non può ma non può annoiato sinceramente ma non può annoiato perché è incrementale la cosa cioè difficile oggi per me che sono magari un esperto scoprire qualcosa di nuovo mi avevano illuminato anni fa oggi faccio fatica effettivamente a concentrarmi a lungo in cui è anche questo vale anche per lì magari di imprenditoria di marketing così via lì non sono un particolare esperto tutto da imparare però non lo so non voglio non voglio leggere solo questo stiamo cercando un po di leggere qualche qualche romanzo in più qualche romanzo in più qualcosa sempre sulla crescita personale mi ispira sempre se mi è capitato ora sono sotto mano quelli di la triade di ryan holiday ok quindi lo stoico stilness e così via quindi comunque sono anche quelli a sfondo crescita personale però magari sono un po più sono un po più romanzati perché sono tanti esempi sono molto belli libri di ryan holiday sì 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 è così insomma anche con qualche paginetta così mi fa sempre piacere insomma ma penso la stessa cosa perché in libreria non si fa altro che vedere nuove uscite in relazione a prevenzione longevità alimentazione che va bene perché è una sensibilità io dico sempre la prima forma di prevenzione la sensibilizzazione quindi ci sta ma dal mio punto di vista ho smesso da un po di formarmi di potere volente perché non è che ci si forma su questi testi divulgativi ma ho smesso proprio di leggerli perché non trovo più quell'aggiornamento che cerco i cosiddetti marginal gains quando ti serve progredire di quell'un per cento devi andare un po alla fonte alle ricerche e per studi poi nel tuo caso a maggior ragione ma anche l'ambito finanziario per accademici si fa questo tipo di studio di formazione libri commerciali sono già un po come si dice anacquati un po per un ma perché se non li leggerebbe nessuno se fossero troppo tecnici non avrebbero 1 2 3 5 milioni di copie di copie vendute possiamo farlo perché in realtà ci abbiamo speso vent'anni leggendo tutte queste cose qua insomma ci sta ci sta si hanno appato il termine giusto perché sono cose triteri triter insomma insomma a punti di vista diversi qualche volta ci si accende una rampadina così via però non c'è tempo per dedicare oggi quasi 40 anni il tempo ad altre altre attività insomma l'abbiamo già fatto non conosceva da formarsi proprio quasi da zero insomma luca tra alimentazione attività fisica gestione dello stress e sonno a quale dedichi più attenzione qual è il tuo punto debole invece punto debole gestione dello stress quindi partiamo subito dal contrario è uno strong yes for gestione dello stress devo lavorare tanto per per vari motivi punto forte mi accorgo che sono molto bene alimentazione benino attività fisica e quella sono più sottovalutate in realtà ultimamente c'è ultimamente anche da vari punti di vista insomma io cerco di farla spesso sempre il più possibile questo punto di vista per quanto per quello che mi permette il tempo mi permettono gli impegni e anche ad alta intensità attività fisica importante perché è quella che mi permette di scaricare in realtà non un polemico il sonno in realtà il motor ma assolutamente bene anche con l'alimentazione ho visto qualche tuo screen dell'ora insomma e dei punteggi invidiabili facciamo a gara ogni tanto esatto 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 e poi su quelli in realtà sono un po truccata la cosa perché quelli sono punteggi che vengono dopo punteggi molto bassi dove magari ho molti da recuperare sta considerando un po anche la consistenza del sonno tanto se non c'è su instagram non esiste il giro più a 56 magari no l'attività fisica attività fisica mi permette di scaricare energie mentali legata un po cioè gestisco lo stress con l'attività fisica lega un po il punto debole e il punto tra virgolette più forte dove in realtà mi piace anche proprio farlo con attività di cina box e la box è molto sottovalutata perché in realtà è un'attività completa una bella attività è difficile farla da ragazzini perché vedi le palestre di box quelle vere cioè i ragazzini sono spesso come si può dire persone molto non violente attenzione che conosco le persone che conosco che sono delle ottime persone per uno sport veramente duro veramente dura farlo a livello magari sia direttantistico che professionistico quando si è giovani sono grandi grandi sacrifici c'è c'è sport e sport è uno sport veramente duro questo può assicurarlo nelle palestre più più truci insomma quindi devi essere anche un po non dico matto per farlo però devi avere un tipo di carattere particolare per farlo perché composta grandissimi sacrifici a livello dico professionistico e quindi quindi chiaramente non essendo per pochi da un certo punto di vista e non riesce a diffondere poi ci sono stati scandali non è gestito bene magari a livello proprio di associazioni è tutto un casino legato al mondo della box che è un po particolare però per gli amatori è grande sport grande sport perché nella sua semplicità in realtà non sono un tecnico mi dirò cosa che che qualunque istruttore mi correggerà perché sono veramente un dilettante dei dilettanti però è per la concentrazione anche molto importante stare di fronte a una persona che ti vuole menare insomma da certo punto di vista molto concentrato trovano soddisfazione mi dicono da quella che si chiama pre pugilistica dalla preparazione le mosse non so quale la c'è la differenza che non c'è un partner fondamentalmente è vero che non rientri troppo nello zumba col sacco che va bene anche la zumba va bene tutto sto scherzando faccio un po il polemico da nelle palestre quelle più truci ripeto si prende un po in giro troppo la la troppo pre pugilistica però in realtà si l'aspetto di alta frequenza di round tre minuti ma molto 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 concitati all'altissima pressione si è assolutamente importante questo facciamo questo per gran parte poi dell'allenamento in realtà è poi tanto sacco e poi qualche volta un po di sparring rispetto per me che sono direttante però ti dicevo quello consumi di più come energia psicofisica magari nei brevi round in cui c'hai uno di fronte tutti caschettati siamo tutti bardati cioè non te ne arrivano colpi è impossibile da vivi un colpo perché hai tutte le caschette tutte paradentiche però in quei tre minuti dove hai di fronte all'avversario consumi tantissima energia ti assicuro pazzesco è morto non riesce a finire il round quasi quasi come mi dicevano anche chi fa judo sembra una cosa non impegnativa ma in tre minuti e penso duri anche quello tre minuti si arriva a delle frequenze cardiache incredibili e gli atleti sono esausti dopo perché ti si consuma la concentrazione sotto stress sotto il pesante stress però molto bello insomma molto bello la tua attività fisica c'è fai boxe o fai anche altro un po di palestra che mi annoio cioè palestra sollevamento pesi è che mi annoio sinceramente mi annoio non riesco non riesco a essere particolarmente costante ai due benefici a livello estetico e in realtà anche dal rafforzamento muscolare insomma però dopo un po mi annoio non riesco a fare grandi grandi gain di guadagni non vuoi considerare queste attività come propedeutiche poi ad uno sport vero e proprio ad un'attività come la box perché fare come dire solo chiamiamolo così uno sport ti faccio solo tennis solo box ti può portare a crescere in maniera vertiginosa in alcune aree ma lasciare scoperte delle altre cose invece se tu copri le tue basi comunque da qualche esercizio contro una resistenza anche a corpo libero una parte radio a bassa intensità che penso manchi nella box è tutto super intenso si può esatto esatto sempre alta intensità l'altra vado due volte alla settimana cerco di andare questa è la settimana ideale e poi cinque volte in tutto la mia pianificazione da google calendar poi intanto no questo non ci posso andare qualcosa di però in realtà si è integro con pesistica classica sollevamento pesi che è quello importante insomma da quasi 40 anni la massa muscolare va un attimino coltivare esatto riduzione fisiologica con l'età 1 2 per cento all'anno quindi bisogna opporre una resistenza dall'altra parte per impedire ma siamo nel nostro pic comunque siamo nel punto di massimo lo raggiungono un po prima forse perché sono un po consumati dall'alta intensità da ragazzi nella salute c'è l'interesse composto prima cominci prima accumuli più interessi ai dopo ci sente che cos'è l'interesse composto e come come spiega un po a chi ci sente perché magari sono parole che non sono appunto su questo così frequenti che cos'è l'interesse composto l'interesse composto deve spiegarlo facile 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 che ogni soldo di investire i soldi no guadagni un interesse no guadagni un interesse ogni euro di interesse che guadagni produce degli altri interessi no questo genera un effetto valanga di neve insomma che questa massa di soldini e guadagnate con gli interessi diventa sempre più grossa e diventano sempre più grossa gli interessi che ci guadagni sopra diventano sempre più grandi insomma un effetto compounding rende molto bene in inglese come come termine la composizione invece dicevi che il tuo tallone d'achille è la gestione dello stress ma è solo dovuta diciamo così al fatto che se un imprenditore hai la tua azienda chiaramente clienti scadenze o hai anche una come dire uno stress che dipende non lo so dal fatto che segui mercati non lo so allora no in realtà i mercati non più di tanto abbiamo i nostri analisti non si credere poi comunque siamo investitori di lungo termine in realtà non pensiamo l'anti stress da quel punto di vista le nostre strategie sono assolutamente anti i nostri credi sono rilassatissimi in realtà no io qualcosina avendo comunque un'azienda c'è un'azienda da 15 anni dipendenti che per me non sono imprenditori di prima generazione non è che te li insegna a nessuno queste cose qua c'è di peggio c'è chi gestisce aziende infinitamente più grosse però ognuno c'è i suoi stress insomma non sono giudicabili all'esterno i propri stress che ti posso dire forse sono sempre stata comunque una persona come si può dire ho sempre fatto fatica a rilassarmi un po perché caratterialmente insomma no caratterialmente abbastanza perfezionista abbastanza orientata al miglioramento mai soddisfatta insomma quindi sono componenti a mio avviso caratteriali che da una parte sono quelle che ti spingono a far meglio insomma dall'altra potrebbero un po schiacciarti potrebbero tendere a schiacciarti sta a te quindi cercare un po di equilibrio tra queste due cose qua anche qui c'è un parallelismo tra le nostre due attività no anche per investire correttamente non devi né essere eccessivamente pauroso né eccessivamente uforico equilibrato anche sempre un po razionalmente ottimista io dico quindi non è un forico ma ottimista però sempre razionale mai mai farsi anche realista insomma se le cose vanno male sui mercati meglio diciamo farsi non ha ragione stessa cosa un po per la gestione dello stress insomma e questo è tra i principali argomenti di cui parleremo che va come si può dire non solo monitorata bisogna lavorarci ogni giorno materialmente perché queste quattro cose tutte collegate no se troppo stress mangi male mangi male non ti alleni non ti alleni dormi male no e si innesca quella quella spirale negativa insomma che altro posso dire poi sulla gestione forse caratteriale abbastanza caratteriale come come cosa insomma con una spinta deve stare un po sulle spine insomma per per tendere a migliorare insomma quindi di base la tua personalità ti porta a soffrire maggiormente lo stress più ti sei scelto un lavoro ad alto tasso di stress quindi devi farne veramente la priorità da questo punto di vista quali sono le tue strategie è in realtà tutti i lavori hanno io ho lavorato in banca tanti anni come dipendente no in realtà era un altro tipo di stress forse peggiore quello insomma perché ero stressato che non stavo progredendo magari non stavo mettendo a frutto il mio talento quindi altri stress forse pensioni questo è uno stress buono da un certo punto di vista dicevi delle strategie per la gestione dello stress cosa hai fatto cosa hai visto che funziona su di te cosa hai lasciato perdere uno scadente uno scadente ti dico la verità sono abbastanza scadente perché ho provato a fare un po di meditazione ma la testa non sono riuscito a progredire più di tanto perché la testa è andata per i fatti suoi con i suoi pensieri sarebbe proprio l'obiettivo quello di non fare questo non sono riuscito neanche ad arrivare a un livello sufficiente per riscontrarmi in beneficio e quindi ho e quindi ho mollato il lavoro ti dicevo sulle altre aree cioè non mi concentro più pensi allo stress più di stressi da certo punto di vista cerco di questo discorso quello lascio andare un po mi concentro più sulle altre aree che sono un po più fisiche la mente un po più difficile anche da controllare rispetto all'alimentazione attività fisica vai la delle botte e ti scarica alimentazione per la spesa con più le cose giuste e mangi quello che c'è a casa e così via lo stress è difficile che ci vuole di più difficile ci vuole più più autocontrollo e si può fare preferisco agire sulle altre aree e riconoscendo che magari il mio tallone tallone d'achille appunto cerco di non stessarmi troppo nel miglioramento di questo ma magari ci sarà un momento in cui mi ci dedicherò anche anche di più insomma così si sia un problema sempre più comune devo dire anche perché si è una delle più belle definizioni secondo me di stress quella di un medico chiamato john cabazzin che è stato uno dei fondatori dei centri di riduzione dello stress basati sulla mindfulness e lui diceva stress uguale essere con il corpo in un posto e con la mente in mille posti diversi e chi è che non è interessato da questa forma di stress se vogliamo dare un po la definizione si preferisco non prendo integratori di nessun tipo affronta lo stress affronta lo stress sì che magari non però dai niente di niente di gravi ci sta ci sta in generale non prendi nessun integratore no per lo stesso no per altri sì altri sì per l'attività fisica qualcosa un po di creatina per gli allenamenti vitamina d vitamina c omega 3 però lo faccio a cicli e sotto controllo sotto controllo medico comunque mi faccio spesso analisi analisi del sacro un monitoratore delle persone del corpo insomma non sono ipocondriaco in nessun modo però appena c'è delle cose comunque preferisco per se tenere sotto controllo la situazione sì 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 non sono del dell'opinione appunto che meglio venire a conoscenza prima di eventuali eventuali problemi per poter per poter intervenire l'altro non mi fanno paura che se cosa fanno assolutamente ti consiglio di guardare gli integratori a base di ashwagandha l'ho da chi l'ho sentito da qualcuno sul podcast di andrea febbraio ho letto qualcosa interessante mi consiglio approfondire dai dai è una pianta però sotto tre nomi o ashwagandha oggi insegno indiano o itania somniferi come botanico e tra tutti i vari rimedi è un po quello che ha una letteratura un pochino più importante sulla gestione dello stress perché agisce sull'aspetto ormonale che riduce la produzione di cortisolo nelle fasi diciamo finali della giornata e quindi va un po a rispettare quella che dovrebbe essere la fisiologica curva del cortisolo e quindi io io te la consiglio da il cortisolo salivare di sera era condizioni pietone è confermato che gli serve i livelli di stress serali sono alle stelle fortunatamente non mi danneggia il sonno però dai adesso quando un po se ci avevo già sentito qualcosa alla grande era anche perché diciamo di giorno abbiamo bisogno di ormoni dello stress per diciamo così per formare quindi portare avanti tutta una serie di attività ed è il motivo per cui io non consiglio praticamente mai una pratica che invece vedo spesso quindi il dosaggio del cortisolo ematico dosaggio che si fa gli esami del sangue si fanno di mattina quindi io vedo nell'effetto il dosaggio del cortisolo un unico momento del giorno tra l'altro un unico giorno dell'anno quindi prendere delle decisioni sulla base di questo valore ma senso ha più senso invece il la curva del cortisolo quindi il dosaggio in 24 punti del giorno e si è visto anche che i metaboliti salivari quindi il dosaggio del cortisolo salivare che immagino sia quello che hai fatto tu esatto esatto i tamponcini ha più senso rispetto al cortisolo ematico quindi già hai fatto la parte diagnostica da quel punto di vista senza non da quello visto che la sera effettivamente dopo tutto lo stesso della giornata le cose i pensieri aumentano in realtà quando ho trovato un po di sollievo nelle attività manuali tipo giocare coi lego fare cose così caso è fraintendibile cucinare cucinare per esempio una cosa che vivrà saltando qualunque cosa che ti impegna se ti impegna da un punto di vista anche anche fisico per evitare poi di entrare nei miei altri della coscienza quello che ha molto senso come si è un po capitolare logico al digitale e poi anche avere un simbolo cioè appunto chi lavora in ufficio entra in casa l'ingresso in casa appunto è il segnale che da quel momento in poi non si pensa più al lavoro perché se invece c'è il computer lì l'app di gmail è un po è un po difficile però si è una lotta che combattiamo tutti quindi ce la faremo ce la faremo la sua grande ci aiuterà mamma mia ormai mi hai metrigerato faccio un mega ordine ci stavo pensando grande e lato alimentazione riesce tranquillamente a mantenere una sana routine alimentare va niente di partita allenandomi abbastanza abbastanza forte ce mi alleno anche per per mi permettere diciamo abbastanza alimentazione piuttosto libera sinceramente mi è chiaro quali possono essere c'è gli stravizi da evitare cerco di evitarli il segreto non mio segreto quantomeno allora sono andato viaggiando tanto comunque avendo sempre fatto una vita da professionista sono sempre andato a pranzo e cena fuori spesso anche troppo in realtà mi sono stufato totalmente anche perché abitando all'estero cioè la cucina italiana te la sogni spesso e volentieri i prezzi sono mediamente alti anche più alti di milano stessa in realtà spesso all'estero mangi peggio paghi uguale quindi sono completamente stancato quindi faccio la spesa ho scoperto il segreto per mangiare a casa e fare la spesa il frigo vuoto che del liberi che peggio che mai insomma è la spesa lì c'è titi di timponi cosa cosa mangia chiaramente insomma e poi cucini quello che c'hai per quanto riguarda la spesa se non avanza monotono sinceramente non sono un grande cuoco abbastanza semplice abbastanza monotono non seguo diete particolari se non pseudo paleo nel senso il limite un po i cereali ma perché lo sento che oggettivamente mini mi gonfiano spesso il limite anche i latticini bravaggio pezzo di formaggio buono formaggio sardo come si capirà sono sardo quelli buoni se dobbiamo fare qualche qualche sgarro facciamolo bene insomma con il formaggio particolare stagionato e così via o nel giornaliero non mangio pane non mangio pasta o mangio pizza perché sia se qualche regime particolare perché sento che effettivamente mi non mi fa stare benissimo sinceramente tanto quando sono amato in generale no no integro c'è con la verdura verdura ci vedo dentro la verdura poca frutta in realtà non tantissime più che altro tropicale una dieta costosa però l'ho messa lì a confronto con l'andare fuori in ristorante è costosa rispetto a magari una dieta tradizionale classica più mediterranea rispetto ad andare fuori è molto meno costosa insomma tanto pesce quando sono a malta che grazie a dio si trova sono pescato e milano un po mezzo un po più difficile trovare qualcosa si trovano un po più difficile carne pesce frutta e verdura frutta poco carne pesce verdura uova limitando un po un po il resto maggiando anche non tantissimo non sono in massa trovo detto non faccio grandi e grande pesistica che non mi servono penso enorme quantità di calorie sinceramente e mi accorgo che mangiare troppo spesso e volentieri sinceramente mangiamo troppo ne accorgeva andando in ristorante no che hai tutto a disposizione basta pagare basta pagare quindi mangiavi troppo quando vanno gli stati uniti poi incredibili attivazione istantanea e 3000 calorie li vedi c'è basta fare così tappi la carta compri quello che vuoi da in quantità illimitate ma poi mangi troppo alla fine ma a casa quando mai ti fai primo se cosa quando mai spesso monopiata magari con chi ha fili qui mangiano quindi devono cucinare di più però noi piatto unico spesso e volentieri con contorno secondo un contorno e vuol dire mangiare meno rispetto a andare fuori la differenza importante sulla questione delle calorie e che è proprio la consapevolezza ci sono adesso sempre più persone che ad esempio tramite l'utilizzo di app fanno il conteggio delle calorie e che non è una cosa da fare per sempre o sempre ma almeno una volta è da fare per una questione di educazione consapevolezza per capire piccole cose in relazione a quella che la densità energetica e soprattutto quale la differenza con gli alimenti industriali cioè un muffin stupido ti può arrivare a portare 3 400 calorie per arrivare a 3 400 calorie col cibo vero quindi cibo che non è stato trasformato lavorato ce ne vuole e diverse catene per fortuna catene americane sono sensibilizzate da questo punto di vista e sull'etichetta c'è più che sull'etichetta sul cartellino nei vari locali mettono quante calorie ed è una cosa saggia ma mi aveva scioccato da cheesecake factory mi aveva scioccato non ho capito perché perché sono tra i pochi che lo mettono anche nel menù del ristorante non pensi sono stati costretti penso perché è contro il loro interesse perché ho visto delle cose che ho detto no io non c'è nulla 1800 calorie da cheesecake factory e c'è un menù lunghissimo veramente la cosa meno calorica a mille calorie solo quello dovresti mangiare come la mille otto tutto il giorno quello no è assurdo incredibile poi c'è il discorso calorie provenienti da quale macronutriente è importante sia il conteggio sia la provenienza però io non so se c'è una legge particolare ma sempre più locali stanno spingendo in america con questo tipo di consapevolezza come dire io te la vendo la schifezza però almeno sei consapevole che ti apporta queste calorie anche in italia qualsiasi cosa ce l'avesse qualche volta è più difficile che allora che calcolare un po se il piatto un po più alla buona quelli alla fine sono piatti ma sanze tradizionali classico pancake cheesecake quelle sono da me sarebbe un po più difficile la direzione è quella cioè capire che l'alimentazione è un qualcosa che dobbiamo dare al corpo quello di cui ha bisogno non quello che ci piace che dipende dalle circostanze o altre è però lo scegliere corregimi se sbaglio nicono c'è momenti con la mia esperienza personale i momenti in cui mi sono rifugiato in cibo un po più non so se hanno capito le pizze le passe perché c'è un motivo ben preciso in realtà perché sono più e danno più conforto ripeto rispetto alle situazioni di ste comfort food cerchiamo in queste cose qua insomma come si può solievo da altre altre preoccupazioni altre cose insomma e poi riconosce insomma non farne un'abitudine costante si nell'alcoli peggio che mai lo stesso sono per i neurotrasmettitori rappresentano un cambiante assolutamente assolutamente e invece luca ti volevo chiedere il rapporto con la tecnologia ho visto che utilizzi la network ora ring ho provato questo site principale che ti ha dato questo perché il più comodo sinceramente non uso i grandi altri anche non uso il l'apple watch sinceramente non l'ho mai usato perché dico l'orologio classico un po alla vecchia insomma anche che non riuscirei a dormirci per dormire tolgo tolgo tutto tra nell'anello riesco ovviamente a tenere l'anello perché un pochino il comodino non ti dai risultati solo quella usavo il fitbit in passato però non all'altezza forse anche un modello un po vecchiotto l'apple watch no perché ripeto non sono ormai con il cellulare ho un rapporto che non mi sta soddisfacendo insomma ovvero non sono più stressato dal cellulare come magari ero un po in passato e non voglio mettermi delle altre cose al polso perché comunque non lo puoi usare più di tanto però comunque una controllatina le me queste cose qua lo darei quindi non voglio orologi per gli allenamenti sto pensando magari il cardiofrequenzimetro quello sì perché mi sbaglio è più preciso anche però ormai fa tanto è perché all'inizio era proprio solo sonno non penso sia precisissimo in tante altre cosine che non è stra preciso salato in attività come che portano all'alta intensità il problema è che non hai un feedback istantaneo quindi tu non puoi non essendoci uno schermo e non potendo vedere real time sull'app il numero cioè è una cosa che sai a posteriori per la cronaca invece i dispositivi wearable servono anche per come dire tarare l'intensità dell'allenamento sulla base del numerino che tu vedi in quel momento e vedi 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 interessante questo interessante con anche la fascia le varie fasce le puoi collegare all'app polar wow o tante altre e si utilizza il telefono come schermo per vedere solamente il monitoraggio della frequenza gradiente orologio non potrebbe che c'è i guantoni quindi peggio che mai durante la box è tutto difficile poi mettiamo un monitor in palestra allora nella mia esperienza questi wearables fondamentalmente servono per aumentare la motivazione nella maggior parte dei casi chi compra un garmin un apple watch per lui alla fine si allena di più si muove di più e l'obiettivo principale perché con la gamification con le notifiche con tutta una serie di strumenti diabolici c'è ti costringono ad allenarti di più e su quello riescono se uno invece ha già una sua abitudine una sua routine salene abbastanza non è necessario ci sono strumenti alternativi no dell'ora ring sono diventato un super fan effettivamente perché riesce dati ormai effettivamente abbastanza completo come strumento all'inizio era solo sono è anche un po così ora è veramente completo e con l'aspetto che dici te correttono c'è il tracking di queste attività qua è importante non solo per il monitoraggio del passato perché comunque vuoi migliorare questi valori tendenzialmente vuoi migliorare questi valori è che è un po anche un altro parallelismo con la salute finanziaria spesso la gente chiede ma scusa il tuo portafoglio ai contazionario hai e devo controllare non lo sai è un parametro come farsi le analisi è un parametro che devi avere comunque sotto controllo spesso volentieri per migliorare insomma monitorarlo insomma diciamo puoi modificare le cose se riesci a controllare in qualche modo questo è valido in tutti gli ambiti è il massimo poi nella gestione aziendale no classici c'è in qualunque libro di management trovi questo vuoi migliorare i numeri prima di con prima devi conoscerli sono che vuoi migliorare se non li conosci insomma poi ci sono delle persone che hanno un approccio come dire sottovalutano l'impatto della tecnologia ma in realtà stiamo andando in una direzione per cui veramente tra qualche tempo ci saranno degli strumenti che a nostra insaputa monitoreranno una serie di parametri biometrici la tavoletta lbc il tappetino del bagno e quindi noi o cominciamo già a familiarizzare con queste cose noi e i nostri professionisti della salute perché poi ci rivolgiamo a loro per l'interpretazione anche chiamiamo team cook per fargli vedere se la zona 2 è fatta bene questo è un problema è un grande problema in questo momento quindi abbiamo dal punto di vista tecnologico innovazione e aggiornamento costante punto di vista sociale personale e clinico qualche passo indietro l'innovazione tecnologica va più veloce noi non riusciamo a stare dietro a meno che come nel tuo caso nel mio caso uno appunto non è il click non scatta quel click per cui comincia già a abbarcamenarsi tra questi strumenti ma tu pensi sia perché magari hanno ancora dei costi un po elevati perché se non tecnologia tendenzialmente i costi di prezzi di queste cose quando hanno ad abbassarsi tendenzialmente no quindi forse non sono ancora arrivati e che non lo so se sia questo il motivo perché alcuni sono proprio refrattari in realtà sì sì è una persona che non ti spinge verso quegli obiettivi secondo me avere pochi parametri ma monitorati per tutti come la frequenza cardiaca riposo la qualità del sonno anche dal punto di vista sociale economico politico potrebbe avere dei riscontri positivi però non c'è niente nessuno che da questo tipo di raccomandazioni cioè siamo arrivati alle raccomandazioni presenti ovunque del tipo non fumare per di peso e va benissimo però dovremmo arrivare in un'epoca in cui le raccomandazioni generali per tutti riguardano il monitoraggio di alcuni parametri non perché dobbiamo vivere in una società distopica ma perché stiamo andando in quella direzione sì 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 sono totalmente d'accordo però vedo che qualche volta è un po ondate sarà un po che sono influenzato dalla mia eco chamber che ogni tanto cambia in realtà qualche volta no c'era anche anni fa parlo ripeto della mia esperienza tanta spinta alla crescita al perfezionamento eccetera oggi quasi quasi si vede un po un rinculo di troppa troppi contenuti troppi materiali che ti ti promuovono uno stile di vita super sano e la gente qualche volta si viene spaventata anche da questo stile quasi quasi militaresco che poi non è così per te ne per me ne per chi seguiamo noi è troppo stroppo c'è alcune cose sono veramente oggettivamente fuori luogo e così però spavento anche io quando dico vai io faccio questo faccio all'altro ma che devi fare le gala vorrei semplicemente provare a non morire a 55 anni di una roba bruciata provare, magari succederà lo stesso però non sarà colpa mia da un certo punto di vista voglio provare a fare questo non tutti hanno secondo me o meglio, non tutti, pochi la massa non ce l'ha la spinta al miglioramento però con l'educazione si può fare può essere l'educazione finanziaria educazione alimentare educazione all'assoluto si può agire sulle nuove generazioni e anche sugli altri si può fare e che ci vuole equilibrio il problema è che questa parola è una parola assente nei social perché lì circola tutto quello che è polarizzante quindi tu hai da una parte Brian Johnson che spende 2 milioni di dollari all'anno è l'uomo più ottimizzato, misurato o un Vince che fa le maratone da 10 mila può diventare così? No, non voglio diventare così oppure dall'altra parte no, alla caverna il bosco così assolutamente torniamo indietro l'analogico il telefono adesso va di moda sai quel telefono che chiamano nothing phone senza absence si possono solo chiamare i brondi di nonno tasti grani no, no c'è bisogno di equilibrio in tutto il problema è che le mode seguono gli eccessi la polarizzazione esatto nel marketing l'equilibrio non vende nel marketing nel commercio nella creazione di qualcosa l'equilibrio non vende si può fare la via di mezzo io sono totalmente d'accordo con te e totalmente per la via di mezzo via di mezzo come si raggiunge in realtà? tra virgolette prendendo il buono dai due estremi se vogliate quindi l'equilibrio non è un posto geografico esistente prendendo un po' il buono secondo me dai due estremi un po' la strategia a bilanciere anche di Taleb qualcosa l'avrei letto anche te un po' così c'è un estremo da una parte un estremo dall'altra sono entrambi sbagliati? no sono entrambi giusti? no cerchiamo di contaminarci del buono di entrambi i punti di vista insomma creando poi la nostra via individuale tra l'altro stessa cosa ambito finanza personale siccome su YouTube è uno degli ambiti che tira di più capita spessissimo che ci siano video correlati o altro cioè o non lo so tragedie imminenti o no non penso che sia necessario o anche dover rincorrere le notizie gli eventi uno può essere tranquillo equilibrato è la fomentazione dei due strati d'animo che ti ho detto prima da evitare in realtà o la fomentazione della paura domani crolla succede questo succede l'altro oppure o la fomentazione dell'avidità diventa ricco in modo garantito rapido e sicuro la gente e non c'è o meglio l'essere umano sarà sempre attratto da questi due poli qua in realtà nella finanza sono questi due quindi o da fuga dalla paura e ricerca dal piacere cosa molto radicata ma su questi sono sprecati gli studi e ci sta e quindi chiaramente il marketer bravo cioè bravo il marketer sgamato è ovvio che vada a ad affondare il coltello di là c'è un po' di etica da un certo punto di vista perché comunque poi sono cose che fanno male etica forse non è la parola corretta però in chi sa un po' come funziona veramente il settore tu nel tuo campo io nel mio corretto secondo me cercare un po' anche di perseguire cioè fare di perseguire questo equilibrio sia nell'offerta quindi nella soluzione che stai proponendo che anche nella commercializzazione della stessa magari ti come si può dire riduci un po' gli affari o ti precludi qualche affare però comunque è meglio insomma secondo me essere abbastanza centrati anche con le proprie convinzioni insomma che sono professionalmente corrette sia nella prevenzione che nella pianificazione finanziaria il controllo ossessivo porti solo ansia invece uno deve avere pochi indicatori personalizzati sulla base di esigenze obiettivi caratteristiche fisiche con quelli va avanti indipendentemente da quello che succede sapendo che la strada è quella giusta sul lungo termine mi dai l'assist il planning si è strutturato così perché pochi indicatori c'entri una volta da un certo punto c'entri una volta è tutto gestito vedi gli indicatori e poi torni a fare le tue cose che però lato business potrebbe essere un indicatore sbagliato perché c'è o meglio un indicatore pericoloso cioè ciò che vorrei far fare ai nostri utenti va contro magari alcune metriche di utilizzo dell'applicazione e così via però non mi interessa da un certo punto di vista anche perché non monetizziamo dal tempo trascorso all'interno dell'applicazione che è un modello di business diverso che genera dei conflitti di interi ma monetizziamo semplicemente un abbonamento trasparente che il cliente paga al fine proprio di entrarci una volta da posto ok vado a fare le mie cose zero insomma secondo te quante volte appunto bisogna che tipo di attenzione se è quantificabile anche in tempo bisognerebbe dedicare alla pianificazione finanziaria non lo so al controllo di mercati investimenti o altro ma dei mercati per il privato praticamente niente in realtà dei mercati non c'è niente da fare cioè da secondo me da fare un lavoro importante in sede di pianificazione ovvero cioè costruire una pianificazione finanziaria e questo si richiede un po' di tempo soprattutto la prima volta che si viene da un passato si sono fatte delle scelte nel corso della propria vita sugli investimenti sulla propria gestione dei soldi un lavoro iniziale importante anche di raccolta informazioni e di capire come costruire il piano finanziario una volta che è partito è oggettivo deve essere noioso deve essere noioso però una volta che è partito lo si sta seguendo magari una revisione del piano una volta all'anno e una volta al mese magari un controllino per vedere praticamente non bisognerebbe fare di più sinceramente una volta al mese per controllare non che sia a tutto apposto da un certo punto di vista magari verificare che il piano di accumulo mensile sia andato a buon fine perché magari solitamente si investe con cadenza mensile vedi un po' il nuovo risparmio che hai generato in quel mese vedi il bilancio entrate e uscite vedi come sta andando poi vai a fare altro oltre secondo me può essere dannoso in realtà può essere dannoso perché non tanto quando le cose vanno bene i mercati vanno bene come gli ultimi 10-15 anni che ci entri sempre positivo in trance perché ho sempre andato bene le cose però è quando vanno male da un certo punto di vista lì dovresti dare la password a qualcun altro come no che era Ulisse che si metteva i tappi di cera per non ascoltare le sirene dovessi in realtà sviluppare quel tipo di atteggiamento in che modo puoi farlo questo se hai pianificato prima se sei consapevole prima tanto alla fine hai creato la pianificazione finanziaria sui tuoi obiettivi sulle tue cose sulla tua consapevolezza devi solo veramente lasciare il tempo che tutto che la pianificazione porti i suoi frutti di una noia mostruosa non siamo fatti per far questo perché poi l'inactivity bias devo fare qualcosa non devi fare niente non devi fare nulla sia negativo devi fare perché va contro nella finanza molte cose vanno contro in realtà al pensiero comune perché siamo abituati più studi più è successo più lavori più fai delle cose in realtà la finanza è quasi l'esatto contrario c'è un lavoro di studio all'inizio per capire le cose che contano poi dopo veramente tanto dei mercati no è una cosa che la cosa che per definizione è che è fuori dal nostro controllo non c'è mercati finanziari complessi caotici non c'è niente che sia più fuori dal nostro controllo di quello quindi perché preoccuparsi oltre da un certo punto di vista certo grazie per queste diciamo non consigli finanziari ma di pianificazione finanziaria ossessionato da quel concetto io assolutamente perché è molto importante Luca molto interessante questa questa ghiacchierata che abbiamo fatto qui appunto abbiamo parlato di te del tuo percorso di quali sono le sfide anche di di un imprenditore nella nella gestione nel mondo finanziario grazie mille per il tuo tempo per la tua disponibilità grazie a te Nicola è stato un piacere una bella chiacchierata diciamo non abbiamo nascosto niente adesso si sa che sono stressato ma alla grande così tutti in pubblico costruiamo in pubblico a presto ciao Luca buona giornata ciao a tutti a presto alla prossima ciao grazie mille ciao